L'amico Ezzoloto chiede anticorpi. Un anticorpo. Un anticorpo per il coronavirus. Ma come si fa a elaborare un anticorpo se il corpo non si vede? Non si vede, ma c'è. E' come se c'è. Dalle conseguenze si vede che c'è e non si può negare. Mi ricorda questa circostanza, il vento. Alcune riflessioni inversi che avevo fatto su un vento alcuni anni fa, mi pare del 2009, anche il vento non si vede. Ma c'è. E' come se c'è. E' quando si sveglia e si muove. Quali conseguenze sa portare. E tra le quali conseguenze ce n'è una che è non meno impegnativa e soppressiva delle altre. Farci interrogare dalla coscienza. Vediamo. E' da premettere che non sarebbe male rispondere a volte ai quesiti della coscienza. Lo cucco che cucchia lo suono annaca. Come l'annaca se lo cucco non c'è. Siento campane, sirene di pompera, lo suono non mi saluta, eppure c'è. L'uviento ciuscia forte. Alle finestre, l'ivisa fa tremare, nell'orecchio si infila. Po' si ferma, ma continua a frescare. E' la coscienza, e' da ora le peccate ammucciate. Chiede che parevano scordate.